Pochi giorni inizieremo il restauro di quell'edificio lì. Ci troviamo ai piedi delle Torricelle, le colline di Verona. È un palazzo signorile. I lavori che andremo ad eseguire sono quelli di evicentamento energetico e strutturali. Infatti dal punto di vista strutturale andremo a modificare o sostituire completamente le strutture della copertura. Come vedete dal video sono flesse, però sono suddimensionate. Abbiamo problemi di infiltrazioni d'acqua, gli appartamenti all'ultimo piano lamentano infiltrazioni d'acqua durante le piogge, oltre ad avere un'alta spesa energetica. Per questi giorni i sottotetti diventano inaccessivi perché sono molto caldi con temperature molto più alte rispetto all'esterno. Oggi abbiamo 36 gradi. Perciò sarà un intervento strutturale e di comfort. Sono situazioni di centro storico molto molicate dove bisogna agire con una sorta di chirurgia. Il nostro compito di progettisti anche dell'impresa è quello di poter dare nuova vita a questo edificio che è stato costruito in modo magistrale in passato perché ancora ad oggi non presenta nessuna fessura o nessun problema statico. Un saluto da Nicola Pretti, l'architetto delle case Green. Un saluto da Nicola Pretti, l'architetto delle case Green.